Ragazzi, oggi vi voglio parlare di equazioni e per spiegarvi che cos'è un'equazione vi pronuncio tre diverse frasi. La prima frase dice il triangolo ha tre lati. La seconda afferma il pentagono ha quattro lati e l'ultima dice un poligono ha sei lati. Analizziamoli un attimo dal punto di vista della veridicità. Il triangolo ha tre lati è una frase assolutamente vera. Il pentagono ha quattro lati è una frase assolutamente falsa. Un poligono ha sei lati è una frase vera o è una frase falsa? Dipende. Se noi pensiamo ad un quadrato come poligono, che è un poligono, questa frase risulta vera. Ma se noi pensiamo ad un esagono, questa frase diventa assolutamente corretta. Passiamo alla matematica. Una piccola espressione, 3 più 4 più 3 uguale 10. È un'uguaglianza assolutamente corretta. Quindi corrisponde in italiano ad una frase vera. Se invece scrivo 2 più 5 più 1 uguale 20, questa uguaglianza è scorretta, sbagliata, sbagliata, errata. E quindi corrisponde in italiano a una frase falsa. E infine se dico x più 7 uguale 9, questa uguaglianza è in pratica la traduzione di quella che era che è una frase aperta. Aperta a tutte le possibilità. Per cui x più 7 è uguale a 9. Se io al posto della x sostituisco il valore 3, la mia frase diventa errata. Ma se io al posto della x sostituisco il valore 2, allora la mia uguaglianza diventa vera come era vera la frase in cui sostituivo al poligono l'esagono. Quindi a me piace definire un'equazione come una traduzione in termini matematici di una frase aperta. Risolvere un'equazione vorrà dire quindi di trovare il valore da dare alla x per rendere la mia uguaglianza vera. Ed ecco qui sotto un esempio di equazione. x più 3 uguale 2x più 4. Notate subito che ci sono due parti scritte, una a sinistra e l'altra a destra del segno uguale. Finora abbiamo solo incontrato le proporzioni che avevano un uguale centrale. Poi che cosa dire? Che la porzione, ciò che è scritto alla sinistra dell'uguale viene chiamato primo membro. In questo caso il primo membro è x più 3. Mentre ciò che viene scritto a destra dell'uguale è chiamato secondo membro. In questo semplicissimo esempio il secondo membro era solo un numero. Inoltre dobbiamo imparare il nome delle diverse parti. La lettera x come sempre è chiamata incognita. In matematica incognita è il termine sconosciuto, il termine da conoscere. Ecco perché a partire della prima media siete stati invitati a sostituire per la moltiplicazione la x utilizzata nell'elementare con un semplice puntino per non confondere il segno della moltiplicazione con il termine incognita sconosciuta. Mentre i numeri 3 e 4 sono chiamati termini noti poiché ne conosciamo perfettamente il valore. Mentre il numero 2 che si trova, termini noti, il numero 2, questo qui che si trova davanti alla x sarà chiamato il coefficiente dell'incognita x. Quella che vedete può essere definita un'equazione ad un'incognita perché solo presente la lettera x, non sono presenti altre lettere, è di primo grado. Il grado è dato dall'esponente dell'incognita che come sapete è sottointeso l'esponente 1. Questo è tutto per quanto riguarda il piccolo discorso introduttivo. Nelle prossime lezioni vedremo i principi, le regole che ci permetteranno di risolvere un'equazione e poi cercheremo anche di capire che cosa si intende per verifica e tanti tanti altri argomenti utilissimi per affrontare la scuola superiore. Vi ringrazio per l'attenzione e a risentirci a presto. Ciao ragazzi!